Ben ritrovati, mi raccomando, lasciate il vostro like a questo video, iscrivetevi al mio canale e azionate la campanella. Il giorno dopo, Monza Juve 1-0, il giorno dopo aver scritto una pagina importantissima di storia per il club Brian Solo, che ha conquistato il suo primo successo in Serie A e l'ha fatto contro la formazione di Max Allegri. Allora, amiche e amici, ieri sera per andare a dormire, quando sono rientrato da Monza, ho letto qualche dato, qualche statistica. Sono talmente brutte che non me la sento di condividere con voi oggi, tra tiri effettuati, tiri subiti, il Monza che non calciava così tanto in porta da tempo in memoria. Insomma, di partita in partita aggiorniamo il trend delle statistiche estremamente negative in chiave Juve. E questo poi credo che faccia capire anche la drammaticità calcistica del momento, perché poi i drammi nella vita sono altri, ma noi parliamo di calcio e in questo momento, a livello calcistico, la Juve sta vivendo tutti gli effetti un dramma. Sembra che la Juve davvero sia finita in un buco nero, perché io ricordo perfettamente quelle parole di Allegri nelle scuole settimane, quando diceva peggio il primo tempo di Genova, Sampdoria-Genova poi tra l'altro finita 0-0, non si può fare. Invece la Juve si è impegnata, è andata oltre, perché ha fatto registrare il secondo tempo con la Fiorentina, se vogliamo anche la ripresa di ieri. Però in generale credo che sia anche superfluo, ormai tirano in ballo tutte le prestazioni negative della Juve, che si commentano da sole, basti pensare che credo che in questa stagione la Juve abbia vinto solamente due volte, no? Contro Sassuolo e Spezia, tra l'altro neanche convincendo, per il resto tanti pareggi, tanti pareggi in campionato, ultima sconfitta invece con il Monza, più due sconfitte su due in Champions League. Un ruolino di marcia terribile, terribile. Sul banco delle imputate è finito da qualche settimana ed è giusto che poi si parli della figura di Max Allegri. Tanti mi chiedete, la Juve tenderà a desonerarlo? La Juve sta valutando di esonerarlo? Ragazzi, se avrò notizie in tal senso le condividerò con voi, le pubblicherò su gol.com, vediamo quello che succede. Ad oggi non ci sono news. Se ci saranno news di quel tipo, faremo cronaca, ma al momento, come era quello slogan utilizzato da Allegri post Benfica? Zitti, silenzio e lavorare. Ecco, mi sembra che la società in questo momento sia trincerata dietro un rigorosissimo silenzio, perché davvero, quando perdi contro il Monza, con tutto rispetto per la formazione di Paladino, che anche in 11 contro 11 aveva messo sotto il punto di vista del gioco la Juve, perché ora non deve passare nemmeno il messaggio che in inferiorità numerica la Juve sia stata a oltremisura penalizzata. Innanzitutto è stata penalizzata dalla sciocchezza di Di Maria, perché un giocatore con la sua esperienza non può reagire così contro Izzo. Sarà stato eccessivamente provocatore? Ehm, amen, uno come Di Maria deve essere un esempio, non deve creare un problema in più. E poi per il resto, anche in 11 contro 11, il Monza ha fatto la partita, ha messo in cattedra un grandissimo Rovella, che ha disputato una grandissima partita, è stato tra tutti i centriampisti di una squadra e dell'altra il migliore in campo, ottimo sensi. Quindi la Juve, anche in 11 contro 11, non ha creato il ben che minimo problema dalle parti di Gregorio, se non un tentativo flebbilissimo di Vlaovic. Quindi non dobbiamo mistificare la realtà e in questo momento non ci sono alibi, non ci sono scuse per nessuno, proprio per nessuno, perché credo che della storia recente Juventina questo sia il peggior periodo nella maniera più assoluta. Come uscirne? Non lo so, ma credo che onestamente in questa situazione neanche gli addetti ai lavori, neanche i diretti interessati ne abbiano un'idea, perché mi ricordo era stata formulata una domanda molto precisa ad Allegri in conferenza post sconfitta contro il Benfica, ovvero se si sentisse più parte della soluzione o del problema, lui aveva risposto della soluzione perché doveva trovare una soluzione. Ecco, diciamo che per il Monza questa soluzione non è stata neanche lontanamente ponderata, perché non si è visto niente. Io credo che la Juve sia riuscendo a peggiorare in termini di performance, una squadra che perde contro il Benfica. Si presenta a Monza e a livello di atteggiamento cerca di aggredire, cerca di fare la partita, cerca di mettere un po' più di intensità. Al netto delle difezioni, al netto di una condizione collettiva scadente, ci sono match in cui sei chiamato a tirare fuori attributi. E io quando vi dico che non vedo senso di appartenenza, vado proprio in questa direzione. Non credo che al calciatore della Juventus, chi più chi meno, perdere contro il Monza poi susciti un pensiero così negativo. Chiaro, ti può dar fastidio, ma ti dà un fastidio soprattutto i fischi. Abbiamo visto la squadra beccarsi i fischi sotto la curva contro il Benfica, se li beccate anche ieri sotto il settore ospiti, però se poi ti becchi i fischi, ti fai vedere con un viso distrutto, apparentemente distrutto in maniera teatrale, e le prestazioni sono queste, chi se ne frega che poi il calciatore vada sotto il settore ospite, sotto la curva a beccarsi i fischi, perché poi mi sembra facciata. Credo che al tifoso giuventino non interesse avere il giocatore lì per poterli fischiare addosso. Il tifoso giuventino vuole vedere il calciatore della Juventus su metterci anima, testa, testa, è mancata la testa contro il Monza anche. Quindi in questo momento ragazzi stiamo parlando di una situazione estremamente complicata, estremamente critica, la pausa, la pausa significa niente, perché non ci sarà modo di lavorare con il 70-80% della rosa, considerando come anche poi magari le seconde linee siano state convocate in nazionale, chi resta qui o non è in forma e quindi da rimettere in sesto, auguri, oppure sostanzialmente a livello gerarchico, conta poco o niente. È dura ragazzi, è molto dura, è molto dura, perché non si salva niente, non si salva niente, non è che magari dici c'è una cosa estremamente negativa, ci sono risultati negativi, c'è il trend negativo, ma quella cosa lì funziona. No, quella cosa lì non esiste, quella cosa lì non esiste. E per quanto anche la Duccia a fine partita abbia detto quello che aveva ripetuto, già Max Allegri, non bisogna essere solamente negativi, perché anche come filosofia di vita, però uno sta a giudicare i risultati, vede la Juventus con 10 punti in classifica, e che ha fatto 10 punti con un calendario benevolo. E' questo che fa anche sorridere, ma che è tragicomico in sé, perché tra Sampdoria, Spezia, Salernitana e Monza, ok, con la Salernitana la partita è stata così, è stato tolto un gol regolarissimo a Mili, tutto quello che vogliamo, ma tra Sampdoria, Spezia, Salernitana e Monza la Juve ha ottenuto complessivamente 5 dei punti dei 10 totali e finora erano cimolati in campionato. Contro queste squadre ha fatto 5 punti, quello tu contro Sampdoria, Spezia, Salernitana e Monza, imperativo categorico di punti, ne devi fare 12. Invece la Juve ne ha fatti 5. Questo è ragazzi, questo è, la Juve si sta impegnando notevolmente a dare il peggio di sé, e ha fatto felici i tifosi del Monza che potranno raccontare a vita di aver ottenuto il primo successo in Serie A contro chi? Contro la Juventus. Che causa del suo male? Pianga, come era già, che causa del suo male? Pianga se stesso. Vabbè, cosa aggiungere? Difficile, difficile oggi fare un'analisi. Difficile il giorno dopo Monza Juve parlare di tecnica, di tattica. Da allenatore, è normale che se ne parli in chiave negativa perché non sembra sottilissimamente, quantomeno in questa fase, di poterne venire a capo, ma davvero in questa Juve non c'è nulla, ma proprio nulla, che si salva. Un abbraccio.